Un caro saluto a tutti quanti voi che attraverso questi video ricordate quello che abbiamo vissuto negli anni passati ma anche con la speranza di poterli vivere insieme in una maniera nuova e anche provata da questo periodo tutto particolare. Il mio augurio parte sempre dalla croce che è l'immagine più pura, più alta che Dio ha dato di se stesso. Sono i giorni che la rivelano questi. Per sapere chi è Dio, diceva qualcuno, devo solo inginocchiarmi ai piedi della croce. Pasqua è la festa non della morte di Dio ma della risurrezione, di questo passaggio. È la festa dei macigni che sono rotolati via, di quelle pietre del sepolcro che vengono rovesciate anche dall'imboccatura dei nostri cuori, dall'ingresso dell'anima. Il segreto è proprio questo, non fermarsi a contemplare solo la pietra del sepolcro, la morte, ma il movimento d'amore che è dentro la vita, che non le permette mai di restare ferma, che la rimette in moto dopo ogni morte, la rilancia dopo ogni caduta, ogni scacco. Per un uomo che uccide ci sono cento che si prendono cura di tante altre persone e anche per quello che stiamo vivendo. Dunque un movimento d'amore di vita che non ha mai fine. E questo è l'augurio che voglio dare a tutta la comunità. Nessuna pandemia potrà mai fermare questa forza e questo movimento d'amore che nasce da Gesù Cristo, dalla sua morte e la risurrezione. Auguri cari a tutti. Carissimi, all'inizio di questo secondo appuntamento vi saluto a nome degli amministratori del gruppo Aspettando la festa d'aprile e vi ringrazio per aver deciso ancora una volta di seguirci. In questo secondo ed ultimo appuntamento andremo a rivivere la processione del Cristo morto e della Dolorata che di fatto conclude i riti della settimana santa a Castellana. Questa processione viene organizzata dall'omonima confraternita della Dolorata e di Santo Onofrio che è la seconda più longeva nella storia di Castellana dopo la ciconfraternita del Santissimo Sacramento e ovviamente considerando quelle attualmente esistenti. Questa processione si differenzia nell'itinerario rispetto a quella dei misteri perché esclude Piazza Cato di Castellanesi a vantaggio di Via dell'Unità che poi collegandosi a Via 3 Novembre fa proseguire la processione del sabato santo nello stesso itinerario, eccension fatta per quella appena detta rispetto appunto all'itinerario della processione dei misteri. Il punto di partenza ed arrivo però non è la chiesa madre bensì la rettoria dei santi Nicola e Onofrio nella quale la confraternita esercita le proprie attività ed è una chiesa molto piccola e semplice probabilmente costruita e destinata inizialmente al culto bizantino visto il suo particolare orientamento. Si trova appena una strada sotto alla chiesa matrice ed è appunto ad essa collegata perché fa parte delle chiese rettorie della stessa parrocchia di San Leone Magno. È una processione molto bella, caratteristica, che si svolge all'alba del sabato santo iniziando il proprio percorso nel centro storico, passando per Via Piazza Vecchia e uscendo in largo porta grande fra le bancarie del mercato settimana all'ortofrutticolo. I fedeli, seppur indaffarati nella spesa per il pranzo pasquale, non possono resistere al fermarsi e a pregare in silenzio caratteristiche fondamentali delle processioni di Castellana, dinanzi all'immagine della madre adolorata in pena e alla disperata ricerca di quel figlio che ha tanto amato ma che ha perso. L'intimità e la tranquillità di una città ancora dormiente contribuiscono a rendere unica l'atmosfera di una processione che meriterebbe maggiore considerazione da tutti i castellanesi, oltre ad una condizione di svolgimento più decorosa, valutando una collocazione temporanea, limitata quantomeno al sabato santo per il mercato di Piazza Garibaldi. Questa processione è l'unica ad aver cambiato collocazione nell'ambito della settimana santa. Originalmente si spolgeva nella mattinata del venerdì santo, compiendo il suo lungo peregrinaggio fra le chiese castellanesi come faceva anche la processione dei misteri. Il suo orario di partenza era ben più presto di quello attuale, oggi si parte alle 7, allora si partiva alle 4 del mattino e la processione rientrava grosso modo a mezzogiorno. Capirete bene che le stazioni nelle diverse chiese comportavano delle notevoli perdite di tempo. Lo spostamento temporale, avvenuto probabilmente nel dopoguerra, è stato influenzato da condizioni sconosciute in maniera ufficiale, ma tutto fa presupporre che sia stato dettato da indicazioni clericali e dalla riforma della settimana santa di Pio XII del 1956. Oltre a questo, probabilmente l'abolizione della messa del sabato santo mattina e l'accentramento del culto della dolorata nella giornata del sabato santo, nonché un'inconcruenza temporale, infatti far uscire la statua di Gesù morto nella mattinata del venerdì santo, quando la liturgia avrebbe vissuto poi, commemorato la morte di Gesù nel venerdì pomeriggio, era sicuramente un'inconcruenza di carattere temporale, per cui questa motivazione avrà portato molto probabilmente a questo tipo di variazione. La processione è composta da tre simulacri, il calvario, il Gesù morto nella culla o come abbiamo già detto la naca e infine il simulacro della Madonna dolorata. La più straziante e probabilmente la più bella ed emozionante immagine sacra che abbiamo a Castellana. Occorre a tal proposito sfatare un altro mito, la dolorata che esce nella processione dei misteri è diversa dalla dolorata che esce nella processione del sabato santo. Abbiamo detto nel precedente video dedicato alla processione dei misteri che a Castellana abbiamo tre immagini dedicate alla Madonna dolorata, la terza è quella che attualmente si trova nella parrocchia del carosino. Per cui le due madonne addolorate che esce nel venerdì sera e il sabato mattina sono due immagini totalmente diverse, così come lo sono anche il calvario e il Cristo morto. Infatti quando in tempi normali era possibile pellegrinare fra le varie chiese, potevamo notare nella chiesa del purgatorio, se aperta, tutte le immagini della processione dei misteri e nella chiesa di Santo Onofrio altre immagini dedicate appunto alla processione del sabato santo. La dolorata del confraternita omonima e di Santo Onofrio è la stessa che il 15 settembre viene commemorata in una festa insieme a Santo Onofrio. In quel caso una diversa base processionale dorata e un diverso abito per la statua della madonna dolorata a manichino, così come anche l'altra immagine del ciclombraternismo sacramento, compongono la immagine della dolorata in festa nella sua memoria liturgica. Anche questa processione viene accompagnata dalla banda di Castellana e inaugurata dal suono del tamburo e della troccola. Quest'ultimo strumento musicale è catalizzato da ganci metallici che suonano sul legno, proprio come i chiodi che vengono battuti dal martello sulla croce di Gesù. La troccola è inoltre usata per richiamare i fedeli alla processione, non potendo utilizzare le campane che sono ferme in silenzio fino alla notte di Pasqua. Per questa processione abbiamo deciso di proporvi due composizioni di due autori castellanesi che abbiamo potuto conoscere già nell'appuntamento di martedì scorso, nell'ambito della manifestazione tradizioni, musica e radici della settimana santa. La marcia funibre dolorosa del maestro Pietro Lanzillotta e la marcia orchidea del maestro Nicola Corpascio saranno il sottofondo musicale di questo video dedicato alla processione del sabato santo. Buona visione e buona Pasqua a tutti! 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 qui! a tutti! a tutti! a tutti! stado Il padre pietoso Contemplando le sue piagno Che potrà trattere le piagno Che potrà trattere le piagno Il padre pietoso Il padre pietoso Tu sei il peccato nel mondo Vite il figlio tra i tormenti 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 A presto. 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 A presto.